Ciao ragazzi, è sabato pomeriggio, sono vestita abbastanza casual, sportiva, sto per andare alla crocetta a fare un giro insieme al mio fidanzato a vedere se trovo qualcosina, voglio andare anche da Raffaele perché è un po' di tempo che non ci vado. Quindi a livello di trucco, veramente molto molto basico, tra l'altro devo anche lavarmi i capelli quindi li ho tenuti tirati su così un po' da pazza, come trucco insomma sempre a solita base, sto usando la CC Cream della Gouche, blush di My Face Cosmetics, ho messo sugli occhi, non so se riuscirete a vedere, questa matita che è una matita della leve make up, come si chiamano, pastello, color radio che è un grigio scuro e poi ho questi orecchini che sono quelli di Eure Inspired. Ho messo sotto una canottierina nera, presa da OBS, mi piacciono tantissimo queste canottierine perché sono piuttosto lunghe e hanno il bordo in pizzo, quindi ho messo questa e sopra quest'altra maglietta che ho comprato questa settimana sempre all'OBS, che mi piace un sacco, c'è scritto prova a mangiare un po' di trucco, magari diventi bella dentro. Ah bene, ho appena scoperto che ho anche sporcato la maglietta mangiando la Nutella, molto bene, quindi lo devo anche andare a lavare subito. qui niente, mi piace un casino, l'ho comprata all'OBS, è molto carina, ha anche delle borchettine applicate, mi piace tantissimo la manica che è fatta così, con il bordo in pizzo trasparente, l'ho pagata a 12 euro, l'ho presa appunto all'OBS e ha tantissime maglie super carine, quindi ve le consiglio. Sotto ho messo dei semplici leggings neri, questi li ho comprati al mercato, li ho pagati 5 euro, avevo voglia di stare comoda, quindi non mettere jeans, insomma, di mettere qualcosa che comunque durante la settimana in ufficio non posso mettere, visto che sono una vestita così non posso andare in ufficio. Ai piedi ho, insomma, queste ballerine pieghevoli, nere, del Coco Rose London, che forse avete già visto in un altro video, mi stanno piacendo tantissimo, le sto usando veramente, veramente tante. Dal momento che non amo usare i leggings con maglie corte, che quindi comunque lasciano un po' fuori il sedere, mi porterò dietro la mia camicia di jeans, questa qua è di pinkie, mi sembra, si è di pinkie, e quindi me la porterò dietro nell'eventualità di avere freddo, non credo, perché oggi fa parecchio caldo, però me la legherò qua in vita anche per coprire un po' il sedere, e mi piace, insomma, tenerla così, insomma, va a spezzare un po'. Poi mi porterò dietro, perché appunto sempre perché voglio essere comoda, la mia pochette in vera pelle made in itali nera, io ho la versione con le borchie dorate, ho messo dentro portafoglio, chiavi, occhiali da sole, sempre per essere comoda. e quindi così, nulla ragazzi, questo è quanto, adesso vado da Raffa che voglio fare un po' di shopping, un bacione a tutte, ciao!